Si gioca domenica 27 settembre la gara di ritorno della Coppa Italia di promozione. Lucera Calcio, reduce dal pareggio esterno di 1-1 con lo Sporting Apricena, giocherà lo stadio comunale di Lucera alle 15.30. Alla stessa ora, sull'ex campo della FIGICI a Foggia, in programma l'incontro tra il Foggio e il Cedit e il Canosa. La formazione foggiana ha vinto di misura la gara di andata domenica scorsa. In attesa dell'inizio dei campionati si attende l'approvazione di un nuovo protocollo del calcio dilettanti, che dovrebbe avere nuove regole anche per quanto riguarda il pubblico. Il protocollo, dopo essere stato approvato all'unanimità da tutti i presidenti delle regioni, verrà sottoposto venerdì al Comitato Tecnico Scientifico per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio. Obiettivo è riavere i tifosi negli impianti sportivi. Grazie. Grazie.